Questo Sanremo, sinceramente io lo sto vivendo ovviamente con un po' più di consapevolezza rispetto agli altri anni però devo dire che pensavo di essere più, tra virgolette, navigata e invece quando si mette poi i piedi su quel palco la tremarella e l'ansia sale sempre quindi pensavo che ne potessi avere meno quest'anno e invece ti dico la verità che sono un po' ansiosa quindi direi che da questo punto di vista non è che cambia molto Questa di Sanremo è scritta da Giuseppe Dati, Marco Fontana, dal mio produttore Diego Calvetti e io ho, diciamo così, inserito, cambiato qualche frase per sentirmela più mia, insomma Ma guarda, ti dico la verità, io lavoro in questo modo tutti gli autori che hanno scritto dei pezzi per me, io li conosco da tempo, ci collaboro da tempo e non ho mai chiesto loro dei pezzi così cioè io li ho incontrati tutti, sono andata a farli conoscere a cercare di fargli capire quali fossero i miei pensieri sulla vita, sull'amore e quindi loro, grazie a questo, col fatto che mi conoscono ormai benissimo sono riusciti comunque a scrivere delle canzoni che su di me si cuciono addosso perfettamente ci sono delle connessioni molto forti col mio modo di pensare e di vivere per cui non faccio molta fatica ad interpretarli perché è come se li avessi scritti io Ai lettori di Metro, un saluto grandissimo e un bacione da Irene Fornacioli Ciao, ciao!